L'obiettivo quindi di questo nostro evento, di questa proiezione di oggi è non abbassare mai l'attenzione, anzi rilanciare quello che è stampa, media, censura, perché purtroppo si parla anche di questo, a volte bloccano, ovvero la diffusione delle informazioni relative alla datativa Stato-mafia. Abbiamo invitato Violante Mancino e Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, a essere qui con noi in prima fila oggi perché ci sarebbe stato davvero utile parlare con loro e fargli quelle domande alle quali non hanno mai risposto. La domanda più importante alla quale probabilmente il nostro Presidente della Repubblica, a differenza di quanto dice il sufficio stampa, non ha risposto è cosa erano quei famosi accordi di cui si parla nelle telefonate intercettate con Mancino. Noi avremmo voluto qui che il nostro Presidente della Repubblica ce lo chiarisse, probabilmente è rimasto bloccato nel traffico, dal tono ne parliamo soltanto di trattativa Stato-mafia oggi, quindi niente di importante per il nostro Paese. La mafia uccide ma il silenzio e l'ignoranza seppelliscono le persone, noi non possiamo più stare in silenzio. Questo film come forse sapete è uscito nel totale silenzio, non c'è stato nessun dibattito sui giornali. Mi sono riproposta di fare un film rigorosissimo in cui si dice soltanto quello che si può dire senza cedere a nessuna tentazione polemica. Non ho menzionato nemmeno il fatto che Napolitano ha fatto distruggere le intercettazioni ed o che non ci sia altra strategia possibile che quella di fingere che siamo ancora in una democrazia e comportarci di conseguenza, di fingere che ci sia un dialogo possibile, che i direttori dei principali giornali, che i giornalisti, che all'opinione pubblica debba interessare un tema del genere. Quando incontro i ragazzi di 17-18 anni peggio, la loro reazione è quella di dire non tanto non possiamo fare niente, tanto non c'è nessuna speranza, tanto le cose non possono cambiare con dei professori bastardi che confermano e dicono no, non potete cambiare, non potete fare niente, è proprio così. Informazione, paura, terrore, paura di perdere il posto, abbiamo perso tutti i diritti, sappiamo che se uno apre bocca ti fanno fuori e sappiamo che è anche difficile avere solidarietà. Per questo appunto ringrazio il Movimento 5 Stelle anche perché rappresenta indubbiamente l'unica occasione di speranza in questo momento in Parlamento per le battaglie per aver difeso la legge sul voto di scambio per esempio. Cioè che dubbi dobbiamo avere su una classe dirigente che cerca di rendere le pene sul voto di scambio più basse possibile, ma la dobbiamo cambiare assolutamente, cioè non possiamo regalare l'Italia a questi, è proprio escluso per quanto ho visto adesso c'è anche uno spot della Rai, uno spot della Rai che invita i giovani ad andare all'estero perché ci sono tante opportunità, ma noi non glielo lasciamo questo paese, sarebbe troppo facile e non c'è la fuga dei cervelli e non è che quelli intelligenti sono andati via e quelli scimi sono rimasti qua perché il cervello ce l'hanno tutti gli esseri umani indistintamente e funziona benissimo e le variazioni sono minuscole e ognuno ha il suo talento e non esistono persone stupide, esistono solo persone che si fanno spaventare e riescono a perdere fiducia nella loro intelligenza e nella loro dignità. Basta. Voilà. Oggi la mafia è un'organizzazione politica e dov'è la differenza? La differenza sta nella diffusione, nel fatto che non si è aperta più semplicemente un ingresso della mafia in politica e nelle istituzioni, ma tutti i livelli istituzionali, tutti i livelli sociali di questo paese sono stati infiltrati dalla mafia. Io spesso dico che il lavoro che facciamo noi, al di là di votare, poi siamo pagati per votare, è mettersi la cravatta al posto dell'elmetto e vedere la mafia negli occhi tutti i giorni, quella che non c'ha più forse la lupara, ma quella che utilizza il compromesso e l'utilizza in questi giorni, nei giorni in cui un tizio che ha fondato un partito insieme al beneplacito di Cosa Nostra, sta decidendo in segreto con il Presidente del Consiglio le riforme elettorali e le riforme costituzionali. Gianni Tinebra, ad esempio, quello che era stato il procuratore capo di Caltanissetta, quello che ha avvallato per anni la ricostruzione depistante di Vincenzo Scarantino, che lo capiva anche un bambino di 5 anni che Scarantino non era colui che aveva messo il tritolo e che aveva portato la MAC, la 126 in Via D'Amelio, si capiva che quella era una ricostruzione, era un depistaggio in piena regola. Quell'uomo non è che è fuori dalla magistratura, Gianni Tinebra è attualmente il procuratore generale a Catania. Cioè noi abbiamo ogni giorno, nelle esperienze che facciamo ogni giorno, la presenza costante ancora di personaggi legati a quel periodo nelle nostre vite. non è che sono stati fatti fuori, sono ancora lì. E allora quando un movimento politico, come il Movimento 5 Stelle, si batte perché lo scambio elettorale politico-mafioso sia punito con pene severe, quando Riccardo Nuti si batte perché racconta la storia di Davide Faraone e dice che andava a casa di Agostino Pizzuto, quando Maria Edera Spadoni fa una denuncia a Reggio Emilia e dice che il fratello del boss Nicola Grandaracchi, Francesco Grandaracri sta a Reggio Emilia, sta lì vivo e vegeto e tranquillo e tutte le istituzioni non fanno una piega nel momento in cui ci sono calabresi che si alzano e dicono tu Francesco Grandaracri non lo devi manco nominare, stati ben attenta. Il PD non è che si schiera insieme a Maria Edera Spadoni, no, sostiene che Maria Edera Spadoni attacca le istituzioni, perché Maria Edera Spadoni parla, parla e dice quello che succede a Reggio Emilia, quello che facciamo tutti noi. Il problema è che finché la maggioranza resta, quella maggioranza politica che si è fatta un po' di machillaggio, ha cambiato un po' la faccia, quella maggioranza politica che ha gestito la politica negli ultimi trent'anni e ha le responsabilità di cui parla anche il film, farà sempre da tappo alle potenzialità enormi che ha un'istituzione come il Parlamento e tutti sperano che il Parlamento non funzioni più. Fassino, da Torino, dichiarava, io spero, tanto se chiude non se ne accorge nessuno, tu speri che sia così, perché il giorno in cui utilizziamo questi strumenti e Giulia Sarto e Riccardo Nuti fanno i presidenti della commissione antimafia, scoperchiamo il vaso di Pandora, escono fuori tutte le schifezze che avete fatto negli ultimi trent'anni. Grazie 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 a tutti.